Allora, come va con la musica? La musica è bene, suona parecchio. Certo, sempre convegni, sacchi di paese, matrimoni, feste private, cocelle, cose così. Però insomma, non mi la vinto. E invece con l'officina? Benissimo, si lavora tanto. Davvero? No, no, va male, non riesco a fare niente. E con Marisa? Con Marisa la grande, pensa, è come se fosse il primo giorno. Davvero? No, mi ha lasciato, sto una merda e dormo in macchina. E invece come va? Non mi chiedevi niente. Oh, ad ogni modo, Marisa l'ha lasciato, ne trovi un'altra. Oh, io penso solo a Marisa. Mica sono come te, che riesci solo a dire cazzate alle donne. Quelli cazzate non sono cazzate. No. No, io sono soltanto coerente con la mia vita da single. Ho sempre avuto un rapporto trasparente con le donne. Chiarezza e sincerità. Tullio! Ma non eri in Cina? Eh, non ancora. Sono stato trattenuto da un impegno urgente con un cliente di Mosca. Ah. E i gemellini come stanno? Molto bene, grazie. Si sono svegliati dal coma. Uno. E il maggiore. E si sveglia anche il secondo. Ci possiamo vedere, ok? Confetta. Va bene. Signora, per la denuncia di qua, prego. Ci sentiamo, Confetta. Ciao. 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 Dicevamo chiarezza e sincerità. Sincerità. Sincerità.